Musica Caro Vita, aumentano i prezzi a dismisura, dal carburante alle bollette, dei prodotti alimentari ai beni di prima necessità. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco cosa ne pensano e come stanno affrontando questa dura realtà. Cosa ne pensa e cosa ha pesato di più sulle vostre tasche? Si parte dal gasolio, dall'elettricità all'alimentazione. Quindi se aumenta quello e contemporaneamente aumenta, diciamo che normalmente una spesa che facevo sui 20 euro e prendevo quel giornaliero, adesso non ce lo vogliono vendi ma ci vuole quasi doppio, 35-40 euro. Trocando un po' l'assicurazione della macchina, un po' l'assicurazione anche dello scooter perché purtroppo c'è macchina e scooter, dobbiamo cercare un po' di eliminare. In palestra, se prima andavamo un mese, tre volte a settimana, adesso cerchiamo di fare un mese, un mese sì e un mese no e così puoi risparmiare. E secondo lei a cosa è dovuto questo aumento dei prezzi? Tutti quanti si stanno cullando sulla guerra che è scoppiata in Ucraina, ma io secondo me ci stanno anche un po' cullando adesso perché diciamo la guerra sì, è stata la guerra, ci sono stati vari aumenti, però adesso ne stanno anche cullando di questa situazione. Qua non si può andare più avanti, come si vede già con l'immagine di Torre dei Greco e qua la gente non vanno più avanti, né a vivere né a sopravvivere. Queste purtroppo più avanti andiamo, più peggio è. Anch'io nel mio piccolo sto cercando di razionalizzare le spese, un po' come tutte, ma non tanto per il momento presente, soprattutto per la prospettiva. Quindi casomai uno incomincia già a organizzarsi in un certo modo. E lei sta utilizzando qualche risparmio accumulato negli anni? Beh sì, certo, insomma, ovviamente qualcosa che tenevo da parte. Sicuramente va a integrare le mie spese. Non fa piacere avere soprattutto le bollette aumentate dal 40 al 50 al 60%. Comunque è una cosa anomala, al di là del fatto che uno le possa o meno pagare agevolmente, non è una situazione normale. Quindi assolutamente va affronteggiata e soprattutto fermata il primo possibile. Sicuramente bisogna cercare un calmieramento a livello europeo, insomma, se non è possibile, sicuramente a livello nazionale si deve intervenire. D'accordo le razionalizzazioni, però io sono dell'avviso che anche questa guerra in corso, alla quale noi abbiamo aderito in una maniera, secondo me, un po' troppo avventata, rinunciando al gas russo che di per sé è sempre stato di ottima qualità, economico e arrivava puntualmente, oltretutto con un gasdotto assolutamente puntuale e preciso. Insomma, noi francamente potevamo fare a meno di troncare i rapporti con la Russia, a prescindere dalle sue responsabilità. Quindi sì, sicuramente va bene queste alternative che si stanno trovando, però sicuramente nel breve periodo non consentiranno una diminuzione dei prezzi delle bollette. Caro vita, i prezzi aumentano, cosa ne pensate? Il governo dovrebbe prendere un provvedimento, aumentare in base all'istart. Come aumenta il caro vita dovrebbe aumentare le pensioni, gli stipendi, perché non ci si arriva a fine mese, la povertà è tanta. Noi cerchiamo di spendere nei supermercati, diciamo, prendiamo tutte offerte, non ci possiamo allargare tanto. Prendere frutta, verdura nei supermercati, dobbiamo andare dai frutti vendili a prendere le cassette, diciamo, dobbiamo stare molto attenti. Noi pensionati dobbiamo aiutare i figli, perché con gli stipendi non ce la fanno. Noi possiamo stare attenti, ma la gioventù è un po' più elastica.